Ciao Loganerd, siamo a Roma alle officine Farneto per una presentazione molto speciale. In occasione dell'uscita del film Widows dei Steve McQueen, l'appuntamento nelle sale è il 15 novembre, abbiamo fatto una lezione di Krav Maga, che è la stessa arte marziale che usano nell'esercito israeliano. Nel film ci sono Viola Davis, Liam Neeson, Strepitosi. Adesso, quando mi incontrerete, state molto attenti. Molto attenti. Ho via! Ho! Ho! Perché? Perché nessuno pensa che abbiamo le palle per andare fino in fondo.